Un blitz del Nucleo Operativo Specialistico Forestale alla discarica del Vermione di Tenno, di recente passata in gestione alla Gedi, ha fatto emergere un'incongruità con i materiali di conferimento non idonei alle certificazioni della stessa. Dopo alcuni mesi di monitoraggio e controllo sui flussi in entrata e in uscita, il Nucleo Operativo Specialistico Forestale ha operato un accertamento a sorpresa su un convoglio proveniente dai territori produttivi extra-provinciali nella giornata del 30 agosto. È stato così trovato un materiale di spazzatura stradale che dalle analisi condotte dal laboratorio APPA si è rivelato essere non conforme ai regime dell'impianto, poiché contenente inquinanti sopra le soglie di accettazione. Prontamente è scattata l'ordinanza del sindaco di Tenno Gianluca Frizzi, che ha diffidato le società coinvolte, Gedi per la gestione e Fenice SRL per la provenienza del materiale. L'ordinanza obbligava le società coinvolte all'immediata rimozione delle 30 tonnellate di materiale inquinante e il trasporto in apposita struttura idonea al loro smaltimento. Sono ora indagati alla Procura della Repubblica il titolare della ditta che gestisce la discarica e l'amministratore di una ditta che opera nel settore del recupero dei rifiuti con sede nella provincia di Milano. Entrambi sono accusati di reato ambientale di gestione non autorizzata di rifiuti. Un tema caldo, quello della discarica del Vermione, che aveva alimentato un vivace dibattito pubblico e politico proprio in occasione del passaggio di gestione dalla Alto SAS alla Gedi, società quest'ultima che alcuni esponenti politici avevano evidenziato avere un curriculum discutibile.